Musica Yash Gavronsky, ben trovato, giornalista volto noto della televisione, inviato più volte parlamentare europeo, 5 se non erro, senatore della Repubblica, Enzo Bettizza, che è il grandissimo giornalista inviato per la scoperta, la definiva aristocratico per stirpe e per portamento e per stile. Lei ha cercato e frequentato e raccontato alcuni tra i nomi più alti del Novecento, tra cui, per primo anzi, Giovanni Paolo II. Ma lei Boitiva lo conosceva già in quanto polacco, come il cognome tradisce? Io lo conoscevo pochissimo, perché Boitiva, quando ero corrispondente a Mosca, a Varsavia, era a Cracovia. Cracovia è una bellissima città, però un po' in provincia rispetto a Varsavia. A Varsavia c'era Vecinski, questo enorme, il primate, enorme, un cardinale di una qualità. Io quindi lo conoscevo poco, lo avevo conosciuto, ma molto meno di Vecinski. Lei ha raccontato questo appuntamento epico, perché era la prima volta che succedeva che un Papa invitasse un giornalista a cena e parlasse liberamente di tutto. Il colloquio uscì sul quotidiano La Stampa, per cui lei scriveva, e poi appunto in questo libro. Non erano domande preparate? Lui non le conosceva, giusto? Assolutamente no, ma nemmeno io le conoscevo, perché veniva tutto spontaneo. Quando lei dice liberamente, mi viene in mente che liberamente fino a un certo punto, perché io ho avuto due interviste, due incontri, sono stato parecchie volte invitato a cena dal Papa, ma in sole due occasioni col microfono. E la prima volta, lui parlò liberamente, tanto liberamente che il mattino dopo, io ho passato tutta la notte a sbobinare l'intervista, la mattina dopo mi chiama il segretario e mi dice, Santo Padre preferirebbe che questa conversazione di lì sera rimanesse privata. Cioè mi ha in pratica bloccato, io ero tutto, era uno scoop grande, tutto, ero tutto felice. Ho rinunciato, avrei potuto anche pubblicarla, perché ce l'avevo su un nastro, ma era difficile andare contro. In fondo poi ho fatto bene, perché me l'ha concessa un'altra, che forse è anche migliore di quella lì. Questo perché il Papa, Giovanni Paolo II, non si era reso conto che in mezzo al tavolo c'era un microfono e ha parlato e parlava, diciamo come si dice. Cosa ha detto di indiscreto e pericoloso allora? No, siccome sono rimaste fuori dalla pubblicazione certe sue frasi, ma soprattutto dei giudizi su delle persone, su dei politici, perché l'intervista è tutta politica, non c'è un accenno a problemi religiosi, è tutta politica, est-overs, capitalismo, eccetera. C'erano dei giudizi sui politici di allora anche un po' arguti, un po' forti. Aveva ragione, anche lì, col senno di poi aveva avuto ragione. Accanto al dialogo con Wojtyla stupiscono altri alti nomi della storia del Novecento. Innanzitutto il generale Jaruzelski, il suo primo competitor, penso al leader massimo soprattutto del comunismo residuale, Fidel Castro, che le fece buona impressione. Sì, infatti fui accusato di averlo trattato anche troppo bene e devo dire che in questa accusa un po' di verità c'è. Devo dire che sono caduto vittima probabilmente dello charme di Castro, perché è una persona nel bene e nel male, ma eccezionale, anche nel bene. Poi credo che sia veramente stato un dittatore in buona fede, cioè lui era sinceramente convinto di fare il bene di Cuba. E molto bene a Cuba l'ha fatto anche, però certo ha fatto anche del male, perché c'erano dei prigionieri. Ma lui mi ha regalato una delle più belle battute di spirito, che è un personaggio così grosso, perché lui sapeva che io avevo intervistato Giovanni Paolo II. A questo incontro era venuto vestito di queste tute mimetiche, allora gli dico, ma guardi comandante, ormai la guerra è finita, avete vinto la rivoluzione, perché lei continua ad andare con queste tute che sono fuori da guerrigliero, eccetera. Dice, ah perché è comodo, perché sono abituato, eccetera, eccetera. E poi mi dice, ma tu, perché lui mi dava del tu, io del lei, lui mi dava del tu. E tu al Papa, io l'hai chiesto perché porta sempre quel vestito bianco. In effetti, molto acuto. I fratelli Kennedy, Bob, compianto Bob e Teddy. I fratelli Kennedy l'intervistai un anno dopo la morte di John, per un documentario, diciamo, Kennedy presidente un anno dopo. E quello che mi colpì è la differenza fra i due, perché Bobby era serio, era ufficiale, era... Parlava del fratello, diceva il presidente, e invece Teddy, molto più intimo, molto più fratello, diceva mio fratello, c'era questa differenza, eccetera. Bobby parlò di Kennedy presidente come ispiratore dei giovani, è stato un bellissimo ricordo di tutti e due. Primo Carnera, il gigante buono, per cambiare completamente incontro umano, no? Un personaggio che però ha avuto anche un segno, ha lasciato un segno importante nella storia politica del tempo. Ebbene, in un certo senso sì, lui mi raccontava, stava già molto male, un anno prima che morisse, mi intervistai a Los Angeles, era lì, mi raccontò la sua infanzia nel Friuli, enorme povertà, poi andò in Francia, nei circhi, fare il fenomeno un po' da baraccone, e poi negli Stati Uniti la grande box, vittorie e sconfitte, fu sconfitto da Max Schmeling, il tedesco, che poi però quando divenne soldato nelle SS, gli salvò la vita, quindi c'era stato questo contrapasso sconfitto, ma vittorioso. Tra nemici che hanno saputo unirsi in qualche modo, grazie allo sport. Sì, grande personale. La Lady di Ferro, Margarettacce, perché tanti rimpiangono ancora. Tanti rimpiangono, ma c'è da rimpiangere. Beh, è stata una protagonista immensa di questo fine, di quell'altro fine secolo, che ha condizionato lo sviluppo del capitalismo, la caduta del comunismo, anche in buona parte merito suo, della sua attività. L'ho incontrata due volte, una volta come capo, come primo ministro, un'altra volta come venne a Milano a presentare un suo libro di memoria. E lì fu abbastanza divertente, perché aveva della politica italiana una concezione molto limitata, molto bassa. Per esempio di Andreotti, scrissa, non mi disse, ma scrissa delle sue memorie, che era un uomo totalmente privo di principi, non solo, ma che considerava quelli che hanno dei principi come delle persone frivole e incapaci. Pesante. 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 Lech Wałęsa, il leader di Solidarnoš, e poi presidente, in qualche modo, anche della sua Polonia. Furono anni fondamentali, non solo per la Polonia, ma per tutta Europa. Di tutti questi personaggi di cui abbiamo parlato fino adesso, Lech Wałęsa, secondo me, è l'unico che fra 30 anni sarà ancora importante, sarà ancora... perché è l'unico che ha veramente... il Papa anche, ma in una maniera diversa, ma il Papa è l'unico che ha veramente cambiato la storia del mondo, la storia della Polonia, dell'Europa, ma anche del mondo. Insomma, senza di lui non ci sarebbe stata questa caduta rapida del comunismo e non ci sarebbe stata questa caduta non solo rapida, ma anche totalmente annientatrice di quello che era il comunismo. E in qualche modo, possiamo dire pacifica, insomma, non così violenta come ci sarebbe potuto aspettare. Lei propose al Parlamento europeo di assegnare il Nobel per la pace a Lech Wałęsa. Sì, fui molto contento che il Parlamento europeo lo votò a grande maggioranza e quindi fu, siccome per avere il Nobel bisogna proporre il fatto che l'abbia proposto il Parlamento europeo, direi che è stata una spinta abbastanza forte per poi concederglielo. Tempi gloriosi per la sua Polonia, tempi difficili quelli della Polonia di oggi. È tutto molto diverso, purtroppo. Purtroppo c'è un'alleanza fra una destra estrema, una destra anti tutto, anti paesi vicini, anti Russia, lo posso anche capire, ma anche anti Germania, cioè un paese che vuole stare da solo, con purtroppo una parte della Chiesa che appoggia questa filosofia e una parte della Chiesa e metà della popolazione perché è un governo eletto dal popolo che ha tuttora una forte maggioranza, però per la Polonia è un disastro perché fomenta, suscita gli istinti più primordiali, più feroci e anche per quanto riguarda i rapporti con l'estero, nessuno vuole più investire in Polonia perché temono questa politica così eccessiva e così... E qui viene fuori la sua passione per la politica e il suo impegno in politica, la sua passione per l'Europa innanzitutto, che nasce dal suo spirito cosmopolita, dalla storia della sua famiglia, insomma che ha tante radici, non una soltanto. Lei è stato tra i candidati alle prime elezioni dell'Europa Unita. Riprendo una risposta del Papa Santo alla sua intervista di cui abbiamo parlato, quando diceva che la caratteristica principale dell'Europa Unita era quella di difendere la libertà dei popoli dal pericolo dell'egemonismo. Ci è riuscita? Direi che è ancora una lotta aperta. L'egemonismo vuol dire tante cose, ma se lo vediamo in quello che è la forma che assume oggi, ecco, la vediamo in una forma molto triste e molto pericolosa. Il fatto di vedere emergere delle forze che sono semplicemente nazionaliste, che sono anti-europeo, quando l'Europa ci ha dato veramente tanto, veramente molto. il pensare che si starebbe meglio senza Europa mi sembra talmente assurdo, talmente pericoloso che spero che presto emergano degli altri politici che sappiano contraddire e controbattere questa... Ma le piace tanto questa Unione Europea? Mi piace adesso un po' meno di prima, insomma all'inizio era un sogno, era un sogno bellissimo. Il famoso sogno, sempre citato, di De Gaspera, De Naure e Schumann. Ma che ne hanno fatto di quel sogno? No, ma loro non hanno fatto quello che hanno potuto fare, ma loro non hanno fatto bene, è il dopo che si è un po' un po' deviato, però insomma è sempre meglio che ci sia che se non ci fosse. Pensiamo a quante a quante leggi, a quanti regolamenti sotto i quali oggi noi viviamo che ci condizionano sono dovuti proprio all'Europa. Cosa manca all'Europa? All'Europa manca una politica estera comune, perché le caratteristiche principali di uno Stato che rendono uno Stato uno Stato sono la difesa e la politica estera e quindi finché non si mettono in comune in Europa anche queste due attività, cioè la difesa e la politica estera, l'Europa rimane un po' una cosa commerciale, economica e tutto. Ed è molto difficile che i singoli Stati rinuncino alla loro difesa, alla loro politica estera, quindi credo che rimane ancora per un po' l'Europa un sogno non pienamente realizzato. Il pericolo egemonico era quello era quello dei paesi della cortina di ferro negli anni in cui l'Europa unita nasce. Oggi è soprattutto il pericolo di un egemonismo economico magari guardando alla Cina? E' certo che quando uno guarda alla Cina, all'Asia, la Cina in particolare, all'Asia in genere vede che lì è il futuro e l'Europa concepita come concepita adesso diventa sempre più piccolina, più debole, più fragile. L'invasione asiatica è alle porte e si sta già realizzando in pratica. E' più preoccupato della Brexit o dei paesi del blocco di Vigengrand? Il blocco di Vigengrand non sono proprio uniti da questa unione, però sono abbastanza sfumati nelle differenze. La Brexit mi preoccupa in fondo molto di più perché è una rottura nel cuore dell'Europa proprio. Sì, anche per quello che il Regno Unito rappresenta come portatore di diritti, di civiltà, di ideali. Di storia, di tradizioni, di storia, di tradizioni, tutto, certo. Ha perso l'anima l'Europa? Lei era favorevole alla puntualizzazione sulle radici cristiane dell'Europa che non era solo un codicillo ma aveva il valore di recuperare entrambi i polmoni dell'Europa, quello laico illuminista e quello cristiano. Come il Papa Giovanni Paolo II parlava di due polmoni in questo senso come dice lei ma anche del senso geografico delle due Europe l'Europa dell'Est l'Europa dell'Ovest Unione Europea che è nata da un'idea di questi tre certamente Schaul Schumer e De Navele del Coso e non c'era una tradizione di Unione Europea anzi tutt'altro c'erano state guerre infinite fra i paesi europei e il fondo dell'Unione Europea un altro contributo che ha dato in questi suoi anni quanti sono che non c'è mai stata una guerra europea è la prima volta che per un periodo così lungo non c'è una guerra fra europei quindi non c'era una tradizione delle radici cristiane erano l'unica cosa in comune che tutti questi paesi più o meno non tutti ma più o meno avevano quindi era giusto diciamo basare la costruzione europea anche su questo perché non è stato fatto? ma forse non volevano quelli che erano contrari non volevano mischiare religione politica non volevano che sovente questa mistura diventa pericolosa in effetti nel caso delle religie cristiane non lo sarebbe stato ma religione politica può essere una miccia abbastanza incendiaria lo stiamo vedendo come lo vediamo in molti paesi nel mondo arabo immagino che il suo impegno politico anche derivasse dall'educazione e dalla condivisione di alcuni ideali che appartengono anche al suo legame con la fede con la chiesa un'altra parola di Giovanni Paolo II riguarda il necessario impegno dei cristiani in politica per dare un'impronta lui ha detto della propria fede nella vita sociale è una motivazione che lei ha tenuto presente? ho cercato di tenere presente è difficile tenere presente non è facile ma le parole del Papa sono molto illuminanti perché lui dice che anche già nel Vangelo c'è teorizzato l'impegno dei cristiani in politica e devo dire che lui era molto di questa di questa tesi insomma che i cattolici dovevano impegnarsi in politica tant'è che nelle prime conversazioni che ho avuto con lui si informava molto della politica italiana non perché gli interessasse credo che la sua forma menti era totalmente diversa da quello che poteva essere la politica italiana ma sentiva che doveva che doveva doveva capirla doveva assimilarla nelle mie conversazioni con lui certo ero io che facevo le domande ma molto sovente era lui che faceva più domande a me perché essendo polacco parlando polacco soprattutto agli inizi insomma potevo gli ero utile nel cercare di spiegare cos'era la realtà italiana che è molto difficile da capire e ancora più difficile da spiegare a proposito a proposito di impegno in politica lei ha un parente che è stato un modello di un impegno grande giovanile appassionato e baldanzoso nella politica che è Pier Giorgio Frassati ed è un santo che piace molto ai giovani non a caso era anche un'icona della giornata mondiale della gioventù perché in pochi anni ha dato tutto con un'energia infinita in epoche in cui era pericoloso esporsi mi piace prima di tutto l'idea che lei lo chiami santo ancora non è santo ma lo saprà è santo è santo è santo come personaggio a me è certo all'inizio devo dire da bambino da ragazzino non pensavo alla sua grandezza anzi mi dava un po' fastidio continuo a parlarne in famiglia e come quando si è ragazzi si tende un po' a rifiutare quello di cui si sente parlare con ammirazione poi le geografie non piacciono da ragazzi appunto poi invece poi invece ho capito che grosso personaggio che è stato e che è tuttora perché nella mente di centinaia di migliaia di persone è ancora è ancora vivo a me quello che piace di lui è questo fatto di certamente passava molte ore anche in chiesa a pregare ma direi che non era la sua attività principale quello che lui faceva di più era proprio aiutare i poveri insomma è facile o almeno è più facile meditare in chiesa è più difficile sporcarsi le mani e andare in mezzo alla gente e cercare di aiutarli e cercare di contribuire alla soluzione quando si è soprattutto il figlio di una famiglia alto borghese di una città meravigliosa e miteleuropea anche se po' provinciale come Torino sotto il fascismo lui era figlio del fondatore della stampa infatti ha avuto delle difficoltà insomma sono anche venuti in casa a cercare di assalirlo e si è difeso e lui è un esempio di cristiani impegnati in politica non c'è dubbio e la politica e la politica l'ha fatta ad alto livello ma direi che insomma la sua politica era talmente sostenuta e commisurata la sua fede che quasi quasi si annullava nella fede ma insomma erano due cose per un certo periodo parallele che andavano avanti ma così deve essere la fede deve incidere nella realtà altrimenti è una cosa da sacrestia certo penso che lei ha incontrato e intervistato forse uno dei più grandi geni del novecento un uomo umile nella sua grandezza che è Sabin quello che ha scoperto il vaccino per l'antipoglio e che Pier Giorgio sarebbe stato vivo se l'avesse conosciuto certo il pensare il parlare con l'uomo che a parte che avrebbe salvato Pier Giorgio ma che ha salvato milioni 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 di persone è stato veramente emozionante è stato un colloquio bellissimo lui era polacco sarebbe ebreo polacco c'aveva ancora una cicatrice per un sasso che un suo compagno di scuola gli aveva lanciato proprio perché era ebreo e gli ho chiesto quali sono le qualità principali di uno scienziato e lui ha detto la curiosità da una parte la curiosità e quello è abbastanza ovvio dall'altra inondare mai se uno fa delle ricerche che hanno successo non pensare mai veramente che sia ottenuto un risultato metterlo sempre in dubbio criticarlo e cercare il parere degli altri insomma una posizione molto saggia ma anche molto umile anche lei è un uomo curioso Gavronsky io credo che la curiosità è più importante dell'intelligenza perché la curiosità forma l'intelligenza la curiosità se soddisfatta se riesce a ottenere i propri obiettivi è un contributo immenso alla conoscenza e quindi all'intelligenza è stato per certi versi difficile sostenere il peso di una famiglia importante una famiglia aristocratica una mamma poetessa un nonno fondatore di un importante giornale per cui lei tra l'altro ha scritto tra i molti lo zio santo cioè ci si sente responsabili e qualche volta anche un po' faticati direi di sì responsabili responsabili certamente cioè più che uno sprone è una necessità a mantenere i propri comportamenti a un certo a un certo livello e credo che in famiglia lei ha fatto questo questo elenco forse è più facile quando c'è tanti personaggi come lei ha citato i personaggi diciamo di successo in campi diversi quindi si si diffonde un po' questa responsabilità però c'è certamente però le aspettative ci sono e pesano pesano certo certo ma io spero che io ho quattro sorelle un fratello devo dire che visto anche un po' dall'esterno siamo abbastanza riusciti a essere degni di tanta ascendenza e sì con libertà e sprezzatura che è un termine che mi piace molto che non ha a che fare con disprezzo cioè passare sopra con una certa leggerezza ecco io ho presente il rapporto ad esempio che lei ha avuto con l'avvocato Agnelli che doveva essere in qualche modo nemico perché Alfredo Frassati ricordiamo fu obbligato a vendere la stampa per il suo antifascismo proprio Agnelli lui ogni tanto Agnelli prendeva in giro mio nonno e mio nonno era diciamo parsimonioso non amava spendere non aveva all'inizio poi non aveva tanti soldi nemmeno e Agnelli con me lo prendeva sempre in giro dice che contava le matite che c'erano in ufficio non so che cosa allora io dicevo guarda forse forse hai anche ragione ma mio nonno a differenza del tuo non si è mai fatto fotografare in urbace e quindi era un antifascista veramente deciso ci ho detto si scherzava ecco ma anche Agnelli aveva stima di nonno Frassati del fondatore della stampa perché certamente era un personaggio che nella Torino di allora aveva contato molto aveva influito molto e lei poteva avere questa libertà con l'avvocato di parlarci alla pari cosa che non era comune in certi anni alla pari forse troppo dire ma certamente comunque l'ha chiamato nel consiglio di amministrazione del giornale sì sì amichevolmente certo lui era una persona certamente intelligente certamente prestigio certamente che contava eccetera ma gli piaceva come tutte le persone intelligenti anche scherzare e ridere e prendere in giro le altre persone quindi era da lui credo che proprio ho imparato una cosa da una parte la curiosità perché lui era veramente di una curiosità estrema per qualsiasi cosa dai livelli più alti al pettegolezzo dall'altra il culto del bello perché era uno che veramente godeva delle cose belle dai paesaggi alle opere d'arte alle persone alle donne anche insomma in uno spettro molto molto vasto però la bellezza per lui era un elemento molto molto importante lei ha cominciato ovviamente con la carta stampata è stato corrispondente per tutti gli angoli del mondo ha visitato mondi che per certi tempi erano assolutamente vietati erano foreste nere erano oltre le cortine d'Ercole che ne è del giornalismo oggi che racconta il mondo? il paese più difficile che ho visitato era la Corea del Nord che è un paese dove pochissime persone pochissimi giornalisti sono potuti entrare ed è un paese nell'orrore affascinante perché riuscire al giorno d'oggi a rendere un paese totalmente impermeabile all'influenza esterna non solo all'influenza ma all'informazione esterna cioè i nordcoreani non hanno internet non hanno telefonini non c'è niente e sono talmente staccati dal resto del mondo che il regime è riuscito a convincere di che vivono bene anche se vivono in una povertà estrema perché non hanno nessun contatto nessun paragone con gli altri con gli altri paesi poi devo dire ho visitato tantissimi paesi 130 paesi ho visitato quindi sono tanti e quindi il giornalismo che muove le gambe e i piedi ha ancora un ruolo? ma sempre meno l'andare sul posto una volta ad andare sul posto si facevano le inchieste un giornalista stava fuori per due mesi faceva tutto su un paese su una situazione oggi con internet con wifi con tutte queste cose diventa meno importante mandare la persona diventa più importante mandare il mezzo tecnico la telecamera il drone non so che cosa però è la persona che interpreta la realtà che vede la persona che interpreta ma la realtà che vede la vedono qua tutti cioè non è più la vedono molte più persone che lui stesso una volta era il suo giornalista era testimone quello che raccontava era sulla base della sua credibilità ma era legge era la verità oggi di verità ce ne sono tante ognuno gira e porta a casa la sua verità e questo è meglio aumenta la conoscenza no 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 perché per studiare e conoscere la verità ci vuole un certo livello di preparazione se uno non ha questo livello magari porta a casa poi delle cose assurde dei cento e più paesi che ha visitato Jasz Gavronski qual è quello dove si sente a casa? la sede del Parlamento Europeo? no l'Italia? la sua Pollone di famiglia? la Polonia? forse forse Pollone soprattutto la Polonia come paese come paese su cui ne abbiamo parlato prima diciamo criticando il regime ma è un paese dove la qualità delle persone è immense sono persone educate civili ho grande rispetto e grande stima per i polacchi se le chiedo una musica che la racconta che cosa e chi sceglie? beh non voglio dire Chopin perché sarebbe troppo sarebbe troppo facile sarebbe troppo facile e troppo ovvio a me piacciono forse anche dovuto all'età mi piacciono molto le messe da Requiem e trovo che quelle di Mozart di Brahms sono fra le più belle e sovente le sento è una musica che le sento molto vicino allora ci ascoltiamo Brahms soltanto perché Mozart è più conosciuta grazie grazie davvero grazie a tutti 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 Grazie a tutti